Ciao a tutti, allora di sovente capita che youtube nella home suggerisca qualche video da guardare e capita a tutti, magari che siamo lì, dobbiamo trascorrere qualche minuto e ci capita anche di aprirlo questo video sotto forma di suggerimento da parte di youtube iniziamo ad ascoltare e ora, non è che io o voi ci aspettiamo da un video qui su youtube le rivelazioni di fatima, ma almeno un discorso con un filologico quello sì un pensiero, un parere, un'opinione espressa in un italiano accettabile e soprattutto comprensibile quello sarebbe auspicabile e invece ti ritrovi ad ascoltare dei soggetti totalmente disconnessi dalla realtà dei veri e propri guazzabugli di proverbi, concetti e strafalcioni vari buttati così a caso, mixati tutti insieme da cui ne fuoriesce un qualcosa di incomprensibile di storto, oserei dire addirittura demenziale quindi i minuti passano, tu sei lì cercando di dare un senso a quello che stai ascoltando e ti rendi conto che sono persone che come banderuola vanno dove tira il vento senza né carattere né dignità con un atteggiamento perentorio di chi la s'allunga e invece l'unica cosa in cui eccelle è nell'utilizzare impropriamente i verbi un vero e proprio scempio di congiuntivi e condizionali una strage di consonanti doppie e violenze aggravate su e con accento ed e senza accento il tutto condito da un'insana e ingiustificata simulazione di sicurezza di padronanza di linguaggio che è assolutamente inesistente quindi il video scorre, i minuti passano tu sei lì a cercare di dare un senso a quello che stai ascoltando e nel contempo fai una sorta di analisi così, dal semplice spettatore e inizi a capire che oltre ad una mancanza di istruzione di formazione basilare sia presente anche una forma di ritardo a livello cognitivo ora, io vorrei rivolgermi a quegli utenti che vanno sotto determinati canali dove sono presenti questi soggetti con evidenti difficoltà per perculare e cercare una forma di divertimento personale rappresentata da commenti alquanto discutibili ora, voglio dire, non è che voi siete tanto meglio che state a fare questo tipo di azioni vi commentate da soli poi, ora, se la domanda fosse cosa sarebbe meglio fare per queste particolari persone questa categoria di persone ora, dirvi seguiteli ad oltranza lo so, risulta problematico e difficile perché io stessa ci ho provato onestamente e non sono riuscita nell'impresa perché di impresa parliamo magari un atteggiamento giusto da parte di persone al loro vicino barra amici sarebbe quello di consigliargli di trattare argomentazioni più leggere magari meno elaborate dal punto di vista intellettuale e culturale più alla loro portata insomma, un qualcosa di più vicino a quello che è la loro possibilità perché poi, no? andando avanti ad oltranza a cercare di apparire persone culturalmente preparate si incorre in un rischio il rischio di diventare dei fenomeni da baraccone presi di mira e derisi cosa che ampiamente sta accadendo sotto gli occhi di tutti ed ora per seguire un po' la moda del momento qui su YouTube Italia anch'io vorrei deliziarvi con un saggio ad agio come morale ultima di questo mio breve video e cioè una persona intelligente si può fingere stupida ma uno stupido ahimè non potrà mai fingersi intelligente e per ovvie ragioni bene per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto ho cercato di sintetizzare ai minimi termini quello che era il concetto che volevo esprimere e vi do appuntamento al prossimo video ringraziandovi sempre per l'attenzione che mi accordate ed è sempre un piacere condividere con voi opinioni e pensieri questo era tutto io vi do appuntamento per il prossimo video vi mando un bacio grande da gossip a 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 Grazie.